Oggi si parla di te, cos'è per te l'arte? Allora l'arte per me innanzitutto faccio un po' fatica a chiamare le mie cose arte, penso che debbano essere gli altri eventualmente se le giudicano arte. Quello che faccio io è semplicemente seguire e assecondare il mio istinto, è una cosa che ho sempre fatto da quando sono bambino, disegnare, fare cose, poi inizialmente ho iniziato a fare cose sui muri, per strada, inizialmente dei graffiti, poi la cosa si è evoluta nella tecnica dello stencil, ho semplicemente sempre assecondato il mio istinto, cioè quello di creare immagini che potessero trasmettere delle sensazioni alle persone. Niente di più, niente di meno, in realtà c'è molto meno di ragionato e molto più di pancia. Ci parli un po' di te? Io ho 28 anni, ho iniziato la mia carriera di urban artist più o meno nel 2001, ho lavorato principalmente a Roma perché è la mia città, insomma ci vivo e ci lavoro da anni, ho esposto più o meno in tutte le capitali europee, sia perché sono stato invitato a festival per dipingere, sia in esposizioni indoor, quindi in gallerie o in spazi un po' più istituzionali, lavoro su due fronti, sia per strada facendo muri, sia in galleria con opere mobili, tele, o dei lavori su carta, e niente, fondamentalmente sono uno degli esponenti della stencil art italiana, questa tecnica, la tecnica dello stencil che ti permette di lavorare velocemente per strada, ma anche su tela, con gli spray, e niente, fondamentalmente questo sono io. Di cosa parlerai oggi? Oggi vorrei fare una panoramica molto ampia sulla mia formazione, per dare l'idea appunto della persona che c'è dietro poi il lavoro che uno vede per strada o vede in galleria, e attraverso poi la mia formazione e la mia storia parlare un pochino del processo creativo che mi porta poi alla realizzazione delle opere.